Siamo usciti con la penna e il foglio nelle mani avendo preso appunti di ciò che il Presidente ha detto sull'Europa, anche analiticamente e non perderemo l'occasione di riportarlo e di inserirlo nella nostra mostra. È una grandissima soddisfazione, una grandissima emozione. Il Presidente alla fine ci ha salutato dicendo che manderà per il meeting una intervista video registrata e ha voluto fare un brindisi insieme con noi, con i presenti, augurale per la prossima edizione del meeting. Con la notizia dell'incontro a Roma con Giorgio Napolitano, del Presidente del meeting Emilia Guarnieri e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussiderietà, si è aperta la presentazione della 34esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli a San Marino che si è svolta presso il Teatro Titano. Un'occasione per raccontare e illustrare il variegato programma del meeting che quest'anno mette a tema la cosa più bella e al tempo stesso più drammatica che esista sulla faccia della Terra, l'uomo, più precisamente l'emergenza uomo. Un tema attuale con mille sfaccettature, variegato e sviscerato in mostre, incontri e spettacoli. Abbiamo invitato sì i ministri, ma invitiamo anche persone che possono interloquire con loro, poi i problemi reali, le esperienze reali. Da questo punto di vista, questa esperienza che inizieremo quest'anno con gli start-up, perciò i giovani che hanno iniziato aziende, che vengono a raccontare come le hanno iniziato e come si stanno sviluppando, lo consideriamo un elemento importantissimo in questo senso. Durante l'incontro si sono succeduti per i saluti istituzionali Pasquale Valentini, segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino, l'assessore alle attività produttive della provincia di Rimini, Iuri Magrini, e il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi. Il primo cittadino, durante il suo discorso, ha pubblicamente chiesto scusa per le polemiche legate all'intitolazione della Rotonda Don Giussani e sottolineato il legame che la città ha essente di avere nei confronti del meeting. Tra gli ospiti presenti all'incontro, i segretari di Stato di San Marino, Giancarlo Venturini e Marco Arzilli. Il meeting dei Rimini dal 18 al 24 agosto prossimo sarà inaugurato dal Premier Ricoletta.